Messaggio degli Elohim di luce al popolo arcobaleno tramite il canale di Darshana degli Elohim di luce, stella del Melchisedec. Amato, amata, un saluto al giorno che viene, purezza indistinta, unica, irripetibile esperienza di questo tempo unico. Superamento delle forme per traascendere verso l'unica forma. Essa è primigenia, contenuto contenitore. Nell'indistinto chiarore che si staglia sull'orlo della visione estatica, le luci di questo giorno infiammano, inondando l'avvento di nuova sacralità. Da sempre abbiamo atteso il Figlio come Maestro, luce che rischiara il cammino. Spesso ti chiedi, chi siete? Noi siamo cosmici esseri fatti di pura sostanza del cosmo. Plasma cosmico, reso materia nell'agglomerato subatomico, che chiamiamo corpo. Ora che il tempo è giunto a porci di fronte al nostro destino, come unica esperienza della Divina Coscienza Illuminata, siamo un'unica realtà di possente maestria. Attraverso la vibrazione del tuo cuore, del tuo corpo, una frequenza di luce che ti inonda e ti connette alle forze più pure della Coscienza Illuminata, sarai riconosciuto e scelto. Fa sì però che lo sforzo non diventi fatica, poiché essa ti avvicinerà alla sofferenza. La sofferenza non è un passaggio necessario, ma puoi sceglierla se vuoi, come alleato, se pensi che sia buono per te, come un motore, un canale di ricerca, di vita. Ogni tua scelta è amata e riconosciuta. Ciò che noi chiamiamo dinamica non potrà mai corrispondere alla tua immaginazione, per quanto essa possa essere vicina alla fonte padre-madre. La dinamica danza con la vita stessa e con l'evoluzione dell'essere che tu sei, appartiene ad una vibrazione così fondamentale e pura che non può essere compresa né immaginata, ma solo accettata in totale fiducia. I tuoi sforzi di fronte ai mulinelli, ai vortici della vita, sono apprezzati poiché permettono alle fonti a cui la dinamica attinge, di esprimersi e manifestarsi in tutti i suoi aspetti. Ogni fiammella che tu hai acceso per l'umanità che tu sei, risplenderà eternamente in ogni anfratto del cosmo, in ogni struttura, livello e dimensione. Ti amiamo, figlio o figlia. Sii amore per ogni cosa che definisci ostacolo, poiché tu, luce, noi, luce, proiettiamo ombre, che tu intravedi come ostacolo. Esse non sono altro che curve del cosmo, affinché tu possa giungere alla luce stessa, come figlio dell'amore, della presenza, dell'accettazione, della realizzazione. Amato, amata, poniti dentro di te, poniti in quello spazio di silenzio in cui il suono della madre e del padre hanno risuonato in te attraverso EOS, in quello spazio di silenzio troverai la quiete, la pace, la serenità con cui affrontare ogni cosa. lì troverai lì troverai l'insegnamento, lì la soluzione. La soluzione non è un punto di arrivo, è un traguardo verso un'altra direzione. il tuo cammino è inondato di luce, che tu possa riconoscerlo in ogni istante, attraverso la dedizione al tuo cuore, alle tue azioni consapevoli, allo spazio sacro che saprai generare intorno a te e dentro di te. Così è, così è, così è. Così è, così è, così è, così è. Grazie a tutti